La tigre del farweb che gioca a minecraft con qual volume che c'è Yook 43 Ciao a tutti ragazzi sono Yook e benvenuti in questo nuovo episodio della Technic Pack 164 E ragazzi non posso urlare perchè è presto mai tardi nel senso sono le 3 di mattino Ho trovato questo momento libero per farvi questo video perchè se no in altri momenti non riesco Non so neanche se li farò lunghi corti comunque si ho letto tutti i vostri commenti E la maggior parte ricevono fanli più corti ma spesso per cui ve li farò corti e vedo se riesco a farne 2 3 al giorno Bla 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 Allora ragazzi per cui partiamo subito vediamo meno le ciance e le badanti per cui facciamo subito ci dobbiamo fare Nell'ultimo episodio ragazzi vi ho retto del file config non ce n'è più bisogno in poche parole Quando scaricate il pacchetto eccetera guardate il tutorial dell'episodio precedente In poche parole dovete eliminare una mod che si chiama Gate Copy Gate Copy Ehm perchè andava in conflitto la Dark Craft con la Gate Copy E dovevo scegliere tra le due E ho scelto la Dark Craft perchè è molto un miliardo di milioni di volte meglio E in poche parole andava in conflitto questa roba chi La Gemma e le Force Gem Noi le vediamo ma prima se lasciate quella mod non le vedete va in conflitto lì di Per cui eliminate quella mod e siete a posto Tanto quella mod ragazzi non serviva veramente a nulla Poi per chi se ne è accorto per chi non la conosce l'Ars Magica Ehm vedete che da quando abbiamo craftato questo bel libro nell'episodio scorso C'è spuntato in alto se notate una barra azzurra che ci mostra il mana 100 su 100 E la barra rossa che è Burnout sarebbe non lo so tipo il calore dell'energia lo vedremo più avanti E in basso sopra il numero dei nostri livelli 5 c'è un numeretto azzurro con scritto 1 Quello è il livello della nostra magia perchè poi diventeremo dei maghi e non immaginate che figata Ma cose che vedremo più avanti perchè ci servono i materiali e oggi andremo appunto in cavernola E vedremo se vi taglierò i pezzi o no Ho liberato l'inventario per cui qua abbiamo della roba da cuocere No ci porteremo dietro magari no vabbè le melle no dai Ho messo a cuocere le patete Facciamo delle torce Delle torce si 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 Ehm facciamo dei bastoncini Findus Voilà E possiamo andarcene Lasciamo qua il libro perchè tanto non ci serve E la legna ce la portiamo Abbiamo un cavolo ragazzi Devo fare un po' di picconi Devo andare in caverna senza picconi Abbiamo del ferro no vero? E col pensiero Col pensiero Allora io mi farei ragazzi Una crafting table da portarmi dietro Poi prenderei altra legna Che non so dove cavolo l'ho messa Non so dove cavolo l'ho messa Sinceramente non ce l'ho proprio la legna Comunque Abbiamo un pezzo di lana Due pezzi di lana Non abbiamo più lana Però Leggendo sempre i vostri commenti Perchè sapete che li leggo sempre Nel villaggio Porca cotoletta Avete detto che c'era un pavimento Pieno di lana Ora cerchiamolo Dovrebbe essere il pavimento Del 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 Il pavimento del coso lì ragazzi Del fabbro Dovrebbe esserci la lana dentro Ora Piccolo problema Dove cacchio è il fabbro? Oh 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 carbone Così facciamo altre torce Che figo è il rumore Dei Dell'esperienza che si prende E anche quando si sale di livello Cambia Il suono Ora non so se riuscirò a cambiare A salire di livello Ricordatemi dopo eh Ah già non siamo in live Come fate a ricordarmelo Eeeh Case del fabbro Oh ma lì c'è il mio quadretto Oh altro carbone Altro carbone Carbene Carbene Ho visto anche del ferro E ora vi spiego una cosa figa del ferro ragazzi Perché ci riempiremo di materiali con questo pacchetto Dopo più avanti vi spiegherò perché Senza di tiro di livello non ho fatto nessun rumore Vabbè Fate finta che io non ve l'ho detto Comunque Ferro e oro Ne avremo a quantità Elevatissimamente elevata Ferro in primis Perché Ora Tutti noi conosciamo Questo qua che è il ferro Quando ne rompiamo il cubo Sappiamo che ci dà il cubo di ferro In questo pacchetto A volte ci dà il cubo di ferro Che è messo nel maceratore Ci dà due 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 polveri Mentre ora Vediamo se abbiamo fortuna T'anche te Guardate Ci dà questi aggeggi Questi cosi E ce ne ha dati ben tre Questi qua Messi nella fornace Ci dà un lingotto di ferro Per cui da un blocco Abbiamo ben tre lingotti di ferro Triplichiamo In questo modo Direi che è veramente Favolosamente Fantasticamente Fantastico ragazzi In questo modo L'oro invece L'oro È identico Potremmo trovare O i cubi d'oro O al contrario I nuggets Ossia Nove pezzi di nuggets Facciamo l'ingotto d'oro Per cui Diversamente dal ferro Ne troveremo Molto di meno Ma quando andremo a macerarlo Con una mod Che poi vi farò vedere È inutile Ve lo spiego ragazzi Devo farvelo vedere È inutile spiegarvelo Però Ci siamo fatti 45 Già lingotti di ferro Direi Ottimamente ottimo Solo che a me Serve la lana Puttagna cagna Ladra lava Lana Allora Casa del fabbro La casa di quel figlio di puttana Dove cacca Mi sono chiuso dentro Mi fanno paura Sti villageri Eccola Eccola No Stavo scherzando Scusate Eccola 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 Questa è tutta lana Io ce l'avevo sotto i piedi E non me ne era accorto Pensate quanto sono pirla Ce la faccio in un viaggio A portarmi via Tutta questa roba Dicete Proviamo No Non ce la faccio Però Con due viaggi Si Intanto Mi fotterei I tavoli I tavoli Mi fotterei No Questo Eh no Non ce la facciamo No Lasciamoli lì Mi fotterei la chest E mi fotterei Il pistolone Voila Possiamo tornare a casa Per il momento Già che ci siamo Prendiamo anche Questa roba qui Sabbia l'avevamo presa Non mi ricordo Prendiamo Un 4 10 pezzi Giusto per E siamo pieni Ok Andiamo Andiamo a casa White point Casa Teleport 2 Ok Molto scura Direi la casa Mettiamo altre torce Perché se no Non mi gusta La casa buica Poi cambiamo Il pavimento Ok Possiamo finalmente Fare il nostro Bel letto Pampete E Pampete Si Al contrario Brambarambare Andiamo in camera Da letto E mettiamo Il letto Qua Ehm Andiamo a dormire Perché è notte Stavo scherzando Mamma mia Credete a tutto voi Ho visto che stavo scherzando Prendiamo questa cestica Appoggiamo un attimo Il contenuto Chi drento Chi Anche i tavolini Per il momento Non ci servono E Poi Andiamo qua Svotiamo il tutto ciò Poi Mi smisterò Io Ok La sabbia La lana Perfect Direi Perfettamente Perfect Ora Andiamo a cuocere Questo benedetto Ferro Un bel 45 pezzi Signori Niente Volevo farlo cuocere Ragazzi Ma Ci sta mettendo un po' troppo Per i miei gusti Però Andiamo almeno a 8 Pampete Facciamo un po' di attrezzi Ci di ferro E Facciamo Un paio di picconi Ok Giusti giusti Due picconi di ferro E una bella spadozza Ragazzi Siamo Gas Nozzle Della Greg's Light Vabbè Abbiamo la spada Abbiamo picconi di ferro Siamo a cavallo Possiamo andare in cavernola Fino al mentole E ragazzi Per il momento Siamo arrivati a 8 minuti e passa Per cui Vi ho Vi ho detto che vi farei i video corti Capitemi ragazzi Finchè non c'ho la connessione Non posso fare altro Accontentatevi Farò del mio meglio Ragazzi Possiamo finalmente dormire Abbiamo un letto Ha 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 Dialucchi è tutto ragazzi Un bacione e un abbraccio Come al solito Pollice in su E Cercate di mettere un po' di più pollice in su ragazzi Perché ultimamente vi vedo un po' mosh No ragazzi Perché mi hanno detto Che a volte Guardano i video Ma sono talmente presi a guardare i video Che si dimenticano di mettere i pollici in su Vi devo dire Che noi youtuber Non Non guadagniamo soldi Con i pollici in su ragazzi Non è che ogni pollice in su Si guadagna un euro Un centesimo O eccetera E il problema Dei pollici in su È che Noi youtuber Appunto Con i pollici in su Possiamo riconoscere Se un video O una serie Piuttosto che Qualcos'altro Vi aggrada Oppure no Se ci sono tanti pollici in giù O pochi pollici in su Può darsi che O vi dimenticate O non vi piace Se invece ci sono tanti pollici in su Vuol dire che vi piace E gli Parlo di me Come tanti altri youtuber Più la serie piace Più abbiamo voglia di registrare Più abbiamo voglia di fare Più abbiamo voglia di divertirvi E intrattenervi Per cui Datevi da fare con i pollici in su E che dirvi Da Luke è tutto Ciao a tutti